Qualcosa ogni tanto si spezza e devi andare avanti da solo. Come diceva Cesare Cremonini, buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno. E io ritornavo, stavo per riabbracciare Patrizia dopo due lunghi mesi. Ma non era questo il mio obiettivo. Io volevo fare qualcosa che avesse un senso, diceva Chiara Ferragni. Matti! Patri! Oh! Capisco! Si dice che chi trova un amico trova un tesoro. E io il mio tesoro lo stavo perdendo. Non capisco perché sta ragazza, un posto ti piace. E se telefonando potessi dirle addio? Questo è quello che diceva Mina, ma io non volevo dirle addio. Dov'è una cosa sta storia di Alaska adesso? Ma dove è Patrizia? Ehi, dove stai? Cos'è questa storia di Alaska? Ho visto le foto sul computer, mi spieghi per favore perché adesso vuoi partire? La stai vedendo pure tu! Patrizia, non ti sento bene, dove stai? In stazione! In stazione! No Patrizia, tu non devi partire, ok? Sto arrivando io! Rimani dove stai? Patrizia stava fuggiando e io non sapevo perché. L'unica cosa che sapevo è che dovevo salvarle la vita. Ecco, Mimì! Una volta arrivata in stazione... Nicole? Patrizia non c'era. Mì, dove stai? C'era soltanto un treno, ma non era diretto per l'Alaska. Andava ad Ostia. Assurda questa oggi, vorrei sapere che fine ha fatto. No, speriamo che non è partita. Ma come occupato? Ma come occupato? Ancora? Ma con chi sta a parlare? Ma con chi sta a parlare? Oh, squilla. Mì? Dove sei? Dove sei? C'è stazione! Ma come stazione? Io sono arrivata a casa, dai! A casa, rimani là, non ti muovere, sto arrivando io, ok? Sei una tesina! E io rito, mi hai fatto preoccupare, perché qua c'è il cuore a mille, c'è il cuore a mille! Adesso la mano, puoi anche... Eh, io, Nicole, ero venuta in stazione perché ti volevo fare una sorpresa, ma che film avevi fatta? Ma che c'entra? Patrizia, cosa c'entra? Chi cacchio è l'Alaska? Perché devi partire? Dovevi andare? Nicole, l'Alaska è la protagonista della serie TV cercando Alaska, e mi sto vedendo qualche giorno. No, aspetta, non ho capito. Perché come disse Francesca Cipriani? No, non ho capito il tuo lavoro! No, scusate, interrompete! Nicola, aspetta! La mascherina! Non aspettarmi per cena, devo cercare il grande forse. Ma quando sei l'è vista, Lasaria? La mascherina! La mascherina! La mascherina! La mascherina! Grazie a tutti.